Vediamo oggi ragazzi l'ultima classe da spadaccino, il falcione insetto che... no, non me lo dimentico ragazzi, lo so che potete dire Spike, ma perché ti dimentichi il falcione? No, in realtà il falcione è anche tra le mie armi preferite, in realtà non me lo dimentico, però effettivamente la percentuale di giocatori e di persone che effettivamente ne parlano, specialmente post quarta generazione, è veramente veramente basso. Comunque è una delle armi migliori del gioco anche adesso, oggi vedremo quali sono i 16 migliori falcioni del gioco, vedremo anche quali kinsetti consiglio per ogni falcione, ovviamente poi la scelta del kinsetto è molto personale e come ho fatto già un video in passato, ogni kinsetto in realtà è forte a modo suo in un certo senso. E quindi niente, iniziamo, chiaramente quello fisico che le state vedendo proprio adesso è quello lì di Sereggias, il kinsetto è un kinsetto di supporto, che vi faccio direttamente vedere, sì, sì di supporto, no? Sì, è il doppio colore difesa, questo kinsetto qui attacca con voi, quindi quando andate a fare una power move attacca con voi appunto causando anche del KO, che non è per niente male, perché io preferisco quelli lì blunt rispetto a quelli da taglio. Le armi e le abilità che stiamo utilizzando è il pendente in tuffo, pendente ciclone, pendente in avanti aereo, richiamo kinsetto, balzo di seda, dall'altra parte abbiamo l'attacco kinsetto risvegliato. Ora perché questa roba qui? Innanzitutto io trovo che in questo stile di gioco, specialmente col kinsetto che aiuta, abbiamo un attacco rapido che ci fa attaccare anche col kinsetto, ci fa fare l'immediato follow up della nostra power move principale, è molto più efficiente fare danno fisico così, rispetto a fare l'advance, che sì è un counter però è molto più lento, dobbiamo prepararlo prima, eccetera 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 eccetera, invece così è super efficace, lo facciamo subito fine. Il richiamo kinsetto è in realtà un'abilità super sottovalutata ancora oggi, ma in realtà è straforte, ci riposiziona, ci ripristina la vita, ci fa raccogliere un estratto, ha un quantitativo dei premi impressionanti quindi continua ad essere molto forte, ok? Il balzo io preferisco semplicemente questo rispetto alla combo aerea di norma, poi lo vedremo dopo che c'è un'eccezione a questa regola. Dall'altra parte in realtà per questo stile di gioco, considerando come va, io preferisco utilizzare il... come si dice? Ok, l'attacco a kinsetto è risvegliato perché oltretutto con questi kinsetti in particolare non solo facciamo tantissimo danno, ok? Come avete visto da qui, ma... non solo facciamo tantissimo danno, ma ci riprende, ci riprende in parte appunto gli estratti. Fa un botto di KO, vedete che in questo caso ho proprio messo instant in KO e il mostro. Possiamo fare un follow-up, siamo già pronti e siamo ritornati immediatamente nel triple-up perché ovviamente questi kinsetti qui fanno... raccolgono due estratti alla volta. Quindi è super efficiente utilizzare questo tipo di arte anche solamente semplicemente come follow-up, anche se semplicemente dovete attaccare lì. Ecco, è semplicemente comodo e forte, ok? Più di diving wyvern, io direi di sì in realtà. Diving wyvern è molto forte, cioè l'affondo dall'alto. Ed è vero che è molto forte, però dovete essere messi in una condizione dove voi state effettivamente a mezz'aria per un periodo di tempo sufficientemente lungo, relativamente indisturbati, per poi piumbare sopra il mostro. Mentre, da come ho testato già ormai per mille ore e passa, perché questa è la verità, ok? Quanto starà? 1600, una roba del genere, ok? Forse di più? Semplicemente fate più danno da terra, per la maggior parte dei casi. Con i falcioni fisici, specificatamente, poi riprenderemo il topic più tardi. Appunto, se volete un'opzione più aerea potete andare per un set di questo genere, questo è il falcione di Kamura, che funziona molto bene. Anche questo ci dà gli slot più grossi, lo preferisco rispetto a quello di Seragios in questo setup, perché vi consente di mettere abilità tipo airborne, eccetera, che mi dà meglio un controllo aereo, oltretutto vi consiglio di giocare anti-sussulto livello 3 per i set questi qui aerei, perché ci sono molte più cose che vi disturbano in Sunbrack mentre siete a mezz'aria. In questo caso, ovviamente, usiamo il Wyvern in picchiata, ma non solo questo, perché se utilizziamo il pendente in tuffo... Usiamo il pendente in tuffo, usiamo altre abilità. Ovviamente qui ne andremo a marcare con il nostro Kinsetto, che è un Kinsetto che attacca in automatico. Perché vogliamo un Kinsetto che attacca in automatico? Perché noi, in realtà, possiamo fare esattamente questa cosa qui e applicare subito le nostre polveri immediatamente. In questo stile di gioco qui utilizziamo il pendente Kinsetto, perché questo stile di gioco qui vi permette di fare questa cosa, che la avete sicuramente già visto online. Uno, due, poi potete fare il dive immediatamente, oppure fate un terzo e poi fate il dive, che è più efficiente. E poi nel frattempo scende da terra, il Kinsetto diventa di nuovo che può fare ciò che vuole, andate a mezz'aria, richiamate il Kinsetto e attaccate con il Kinsetto. Insomma, che potete ripetere questo loop, essenzialmente all'infinito, fino a quando avete stamina. Infatti questo set qua, cercate di mantenere la stamina alta, perché altrimenti piombate di continuo a terra. Allora, per quanto riguarda i falcioni status anormale, ancora una volta, questi qui li giocherete multigiocatore, veleno, se il vostro team beneficia del fatto che il mostro è avvenenato per un lungo periodo di tempo, paralisi e sonno sono i due migliori status anormali del gioco, e blast, ottimo per spaccare rapidamente le parti di mostro. Il set di skill che andiamo a usare è un po' diverso, abbiamo il pendente in tuffo, chiaramente, è comunque un set fisico alla fine dei conti, quindi questo è comunque il modo migliore per arrivare alle nostre proper move, qualsiasi essi siano. Poi utilizziamo il pendente quadrimatico, e adesso vi farò vedere rapidamente perché. Il pendente in avanti aereo, richiamo Kinsetto e Bazo, fin di si, e dall'altra parte invece abbiamo sempre il Diving Wyvern. Useremo qui il Diving Wyvern perché in realtà questi set che fanno multicolpo, se vanno a mezz'aria avete un'opportunità per colpire il mostro rapidamente tante volte, è un attack speed superiore, attenzione non è DPS, è attack speed superiore, che risulta in un'applicazione più rapida degli status anormali. La ragione per cui stiamo giocando il Tetra Slash è perché questo tipo di Kinsetto qui, che per esempio in questo caso mi fa, mi fa questo qua, mi fa scoppio-gueriggione, no? Sì, mi fa scoppio-gueriggione, mi consente di applicare rapidamente queste micro polverine e poi oltretutto quando voglio posso anche fare un bop più grosso e ulteriori danni, se voglio. Quindi è uno stile di gioco così. Oltretutto io ho scelto volutamente questo perché è un po' overkill, per usare anche il Kinsetto veleno, vi consiglio di splittare, ok? Perché già questo falcione qua ha già tanto veleno di per sé, vedrete che splittare in questo caso è meglio, infatti ve lo faccio vedere poi Kinsetto per Kinsetto quali stiamo utilizzando appunto. In questo caso appunto è il Bilbo Bricks con scoppio-gueriggione, tipo polvere. E ovviamente il falcione è quello di Camilos. Per Paralisi usiamo il falcione Stratosferico Plus, il Kinsetto è il Kinsetto guarigione Paralisi, in questo caso non è overkill perché chiaramente la Paralisi è una Threshold molto più alta. Il Falcione Sonno è quello di Somnacant, il Kinsetto invece, attenzione ragazzi, il Kinsetto è quello veleno Paralisi. E per Blast abbiamo questo Kinsetto particolare che è il Bastone di Laerte, che è quello che ha il Blast più alto di tutti. E il Kinsetto fa scoppio-gueriggione. Va bene, comunque scoppio in questo caso, potenzialmente potete giocare appunto, sono tutti intercambiabili i Kinsetti, quindi dipendentemente dal mostro in cui stai andando, e come è composto il vostro team, potete sbucciare l'uno e l'altro. Per Blast però onestamente va bene anche fare Double Down perché è proprio l'esplosioncina in questo caso delle robe Blast che fanno anche tanto danno, quindi va benissimo così. E da guarigione, che comunque è sempre comodo. Usualmente quando voi state targettando una parte, il team è più esposto, perché state giocando in modo volutamente meno efficiente, quindi è comodo anche che dia semplicemente anche solo guarigione, in totale onestà. Ora, iniziamo a parlare di Falcione Insetto Elemental Fisici ed Elementali Elementali, e io ci avevo perso totalmente le speranze, oltretutto in questa cosa qui, negli Elemental Fisici il migliore fuoco fisico è quello di Espinaz normale. Sì ragazzi, è successa questa cosa, e sono molto contento in realtà, perché ci stavo rimanendo veramente male che non ci sarebbe stata nemmeno un'arma di Espinaz normale, perché soffiniscono tutte le armi di Espinaz normale, sono tutte in un limbo, in cui non sono mai meglio in niente, in questo caso però eccellono, perché raggiungono un quantitativo di attacco abbastanza alto, da essere praticamente al pari con le altre, però hanno già tanto elemento, hanno anche affinità positiva, c'hanno gli slot, bla 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 bla. Lo andremo a usare con il pendente in tuffo, il pendente ciclone, il pendente in avanti aereo, richiamo Kinsetto Balzo Fil di Seta, e dall'altra parte abbiamo l'attacco Kinsetto Risvegliato. Essenzialmente ragazzi, questo qui è un clone set, se ci avete fatto caso, di quello fisico, ok, di quello fisico proprio totalmente fisico, perché appunto questi Kinsetti qui, dello stile Elemental Fisico, partono dal presupposto, che noi stiamo facendo la maggior parte del nostro danno, perché stiamo puntando al raw damage, non all'elemento, quindi stiamo trattando di fatto l'elemento come un bonus. In questo stile di gioco nello specifico, appunto, il miglior falcione fuoco fisico, è quello di Spinass, normale, non il flaming. Per quanto riguarda acqua c'è Amatsu, per Tuono c'è Zinogre, per Ghiaccio c'è Velcana, e per Drago c'è Kaotic Gore Magara. Ovviamente ognuno di questi falcioni che vi ho mostrato, letteralmente tutti, utilizzano il Fante, ok? Il doppio colore difesa, io lo preferisco, poter utilizzare il doppio colore anything, dipende in realtà molto anche dal mostro, ma usualmente il doppio colore difesa è quello lì migliore, tra questi tipi qua. Invece set falcione, elementali e elementali si giocano in modo totalmente diverso, infatti in questo caso lo skill set è il pendente rotante in avanti, fa molti gol, ragazzi, e poi ci lancia anche a mezz'aria, se counteriamo, pendente quadrimatico, si chiama quadrimanico, ok? Pendente in avanti aereo, richiamo Kinsetto, balzo fil di set, dall'altra parte chiaramente abbiamo i Wyvern in picchiata, perché questi set è probabile che noi li andremo a giocare anche proprio aerei, ok? Nel senso possiamo effettivamente stare a mezz'aria ed infliggere una grande quantità di danno, perché chiaramente l'elemento beneficia, rinnovinato un po' dell'attack speed, ok? Di solito più un attacco è veloce o un multicolpo, meglio è in questo caso, quindi ovviamente potremo stare a mezz'aria, riposizionarci, e poi finire magari con una bella esplosione, così. Ovviamente noi andremo a utilizzare questa avanzata in avanti, che è molto comoda, fa tanti colpi, andremo a fare nel utilizzare il quadrimatico, perché marca il mostro, chiaramente il nostro Kinsetto a quel punto inizierà con i suoi follow up, e ricordatevi che questi Kinsetti applicano l'elemento dell'arma, e ovviamente potete richiamarlo quando volete, aggiungere DPS su DPS, che ci fa estremamente comodo. In quest'altro secondo stile di gioco, ovviamente il Kinsetto che state vedendo è quello di prima, è... Banna mia. È il Bibobrix con Scoppio e Guarigione, ancora una volta potete in realtà scegliere quello che preferite, chiaramente. Comunque per fuoco abbiamo quello di Flaming Spinass in questo caso. Per acqua abbiamo Mizuzune, per tuono abbiamo Kezu, per ghiaccio abbiamo Rushala da ora, e per Drago con la sorpresa credo di assolutamente nessuno, abbiamo quello lì di Malzeno Primordiale. E con questo ragazzi concludiamo le armi da spadaccino, da Spec è tutto, ovviamente se avete qualsiasi dubbio me lo scrivete nei commenti, e noi ci vediamo alla prossima. Bella!